Inguardabile e imbarazzante, Leone Rossi Vicenza chiude la regular season con l'ennesima figuraccia rimediata nel campo dell'ultima in classifica. Il Piacenza non fa nemmeno tanta fatica a vincerla e la quattordicesima sconfitta stagionale chiude un campionato davvero brutto, che sarà ricordato come un fallimento sportivo di dimensioni colossali. Partito con i favori del pronostico e con l'orguante dichiarazione di Renzo Rosso, il Leone ece di scena nel peggiore dei modi. Ora non resta che azzerare tutto e preparare il post-season con meticolosità, in modo da rimettere insieme i coach e cercare di compiere l'impresa mancata nel 38 partite stagionali. A Piacenza i Biancorossi hanno toccato il fondo, capaci di calpestare le dignità di una città e della sua tifoseria. Per ripagare la tanta delusione patita, è inutile dire che fa vincere l'unica cosa, azione, che rimane aperta. Appuntamento dunque con la gara di andata dei play-off e il Vicenza, grazie alla vittoria della Coppa Italia, partirà dal primo turno nazionale in programma il 7 e l'11 maggio prossimi.